Ciao ragazzi, come state? Da quanto tempo non faccio un video qui sul canale e come state? Sono un po' impegnato, ho aperto un altro canale YouTube che però mi sta divertendo di più di questo. Ecco, sono sincero, di lì si chiama Icremaralino Business, parlo di quello che ho imparato vendendo corsi a voi musicisti ragazzi perché si imparano delle competenze, delle skill di vendita online, forse consulenze e quindi mi sta molto impegnando perché mi diverte tanto però c'è da fare un video anche qui ragazzi perché bisogna un attimo chiarire le cose, è un video importante, voglio chiarire alcune cose ho visto delle... purtroppo io ho inventato questa categoria dei formatori musicali, sono stato il primo, non c'era nessuno sono stato l'anomalia nel sistema che ha creato questa categoria di persone perché io nasco come musicista poi mi promuovo, vedo che mi piace promuovermi, sono bravo, promuovo anche i miei amici, poi promuovo gli amici degli amici diventa un lavoro, apro un ufficio stampo, una casa discografica, questa è la mia storia e poi faccio il passo successivo, insegno a vivere di musica anche dal punto di vista degli addetti ai lavori come aprire un ufficio stampo, come aprire un'etichetta, sempre vendendo forse videocorsi quindi inizio a fare video su YouTube e da lì io credo di essere stato il primo primo musicista YouTuber, tra cui comprate il libro Musicista YouTuber, ce l'ho di là trovate i link in descrizione su Amazon Musicista YouTuber se volete diciamo avere una bella carriera anche su YouTube che YouTube vi aiuta anche con le finanze, diciamo vi finanzia, potete guadagnare vi aiuta, vi aiuta con la costruzione di una community, della popolarità vi aiuta anche a trovare opportunità, contratti e una bomba quindi il primo passo che io consiglio nel 2023, voi vivere di musica e di questo parleremo oggi, di vivere di musica con la propria musica inedita bene YouTube, io farei YouTube, video su YouTube, lì ho spiegato tutto guardatevi anche il mio corso Gavetta Online perché c'è il nuovo formato verticale che bisogna sfruttarlo, c'è l'errore che i musicisti pensano di dover comunicare semplicemente il nuovo disco, le nuove date, il nuovo videoclip con i social invece dovrebbero costruire contenuti ogni giorno spiego tutto in Gavetta Online, quel corso è fondamentale anche musicista tiktoker perché poi tiktoker è un grande strumento quindi trovate in descrizione i miei corsi e prendeteli perché vi aiutano però ecco c'è da dire che là fuori vedo tanti colleghi, non so come chiamarli che non sono molto chiari perché siamo tutti d'accordo sull'importanza di crescere sui social però dobbiamo un attimo chiarire qual è l'obiettivo di questo nostro impegno sui social perché è faticoso costruire contenuti ogni giorno, preoccuparci dei social di Instagram, di TikTok è faticoso però dobbiamo capire perché lo stiamo facendo non lo facciamo e chi mi segue, chi segue questo canale lo sa, lo dico sempre noi non lo facciamo perché poi diventeremo famosi e saremo e crescere di follower ci renderà il sogno realtà ovvero vivere di musica mi riferisco poi soprattutto a chi vuole vivere di musica con musica inedita è un macello ragazzi, tutto questo percorso sui social che io spiego nei miei corsi passo passo che è faticosissimo e quindi ti consiglio di prendere i corsi per non sbagliare e fare le cose fatte bene è soltanto, ci serve soltanto per avere l'attenzione degli addetti ai lavori delle case discografiche serie perché queste cose le guardano ok è importante perché lo dico sempre un conto ti arriva la mail di un ragazzo che ha un pezzo che spacca ok e poi ti allega, non ti allega i social, lo vai a cercare non c'è oppure ti manda il videoclip di YouTube quanto è triste vedere quel YouTube con 5 iscritti c'è solo il videoclip e non c'è un lavoro fatto e un conto è un ragazzo ti manda una canzone carina poi vai sui social e vedi che c'ha 20.000 di là, 18.000 di là che si sbatte ogni giorno e già inizi a vederlo con occhi diversi magari la canzone ti inizia pure a piacere di più perché perché ha un seguito l'ho detto in un sacco di video che ho pubblicato estratti dalla mia diciamo masterclass nella piattaforma semantic premium del collega amico Ettore Passafiume ho estrapolato gratuitamente però non so se ne riapriranno le iscrizioni comunque tenete d'occhio anche Ettore e lì c'è proprio una lezione sui social e quant'altro e spiego proprio questo come ragionano le case escografiche perché bisogna saperlo, bisogna sapere perché stiamo facendo tutto questo e tutta la fatica che noi facciamo per come dire crescere sui social ci serve soltanto per avere l'attenzione degli addetti ai lavori ok? chi vuole e diciamo questo video lo faccio perché voglio sottolineare un concetto che forse là fuori i miei colleghi tra virgolette non vi dicono cioè qualcuno ve lo dice là fuori che è difficilissimo vivere di musica con la propria musica inedita soltanto di musica ok? che cosa vuol dire vivere di musica con la propria musica inedita? vuol dire arrivare al grande pubblico al mainstream, alle masse vuol dire dover passare da un talent dover almeno interessare puoi anche non passare da un talent ma devi crescere tantissimo devi essere giovane devi fare un certo tipo di musica ci sono un sacco di variabili ok? non è per tutti questa roba qui ok? cioè non vi fate abbindolare addirittura ora io che conosco molto bene il business online i formatori di business online si sta creando un fenomeno pazzesco ok? ci sono formatori che probabilmente avranno studiato da chi praticamente insegna come aprire un'attività online ok? un business online e vuole applicare quegli stessi principi alla musica cioè ho visto uno che dice cioè non si può siccome c'è c'è poi questa cosa che il musicista è una start-up ho anche fatto un video adesso non è la start-up il musicista il musicista è un'azienda quindi dovrebbe pensare l'obiettivo finale sono i soldi ok? i soldi quindi se non fa soldi non può ma come fai a fare soldi con la musica tua inedita? cioè non puoi paragonare un musicista ad un'azienda un'azienda cioè il loro il concetto è siccome non ti servono milioni di follower te ne servono te ne servono anche pochi l'importante è che fatturi che e come fatturi con Spotify come fatturi con i concerti concerti senza un booking che non ti pagano poi in Italia non ci sono più posti per suonare sempre di meno come fatturi non puoi paragonare questo è un discorso che vale non potete prendere i corsi così dai guru che per carità io pure li uso ma per vendere prodotti e servizi ok non mi servono per vendere prodotti e servizi non mi servono milioni di follower è chiaro trovo realizzato un prodotto un servizio che risolve un problema altro mi promuovo sui social mi basta anche una pagina con mille follower e vendo ma vendo un prodotto che serve l'ho già affrontato questo discorso vendo un prodotto che serve ma la mia musica nuova io artista emergente che cosa vendo un prodotto che non serve a nessuno la mia musica nuova a meno che non sia un genio probabilmente non serve a nessuno non ho gli strumenti per vendere perché dove la metto la gente usa Spotify per ascoltare la musica quindi io mi metto su Spotify che cosa guadagno non vale questa cosa per vivere ecco lo diciamo a chiare lettere perché funziona con i grandi numeri per vivere di musica con la propria musica inedita bisogna fare milioni e milioni e milioni di ascolti devi avere milioni di follower ok non ci arrivi dall'oggi al domani ti serve un team una struttura e per interessare quel team e quella struttura devi partire tu ovviamente solo per avere l'attenzione per dire sono qui quelli magari guardano allora ah ma c'ha 50.000 follower solo per avere un'arma in più per avere l'attenzione oltre alla tua musica e dici guarda sono anche ho già fatto un percorso di strada io è ok ma non puoi ragionare come una piccola azienda online un business online allora guardo i soldi ma che soldi come li fai i soldi se stiamo parlando di vivere di musica con la propria musica inedita cioè le mie canzoni mi devono mantenere non 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 ti manterranno cioè devi fare cioè devi diventare una super pop band o trap ecco quindi entra in gioco il genere l'età e sono determinati i generi ok quindi non cadiamo nell'errore di pensare devo crescere sui social perché poi vivrò di musica poi puoi fare quello che vuoi puoi puoi fare io figurati sono il primo che ti dice poi provaci poi magari si aprono diverse porte ma qui dobbiamo essere onesti vivere di musica con la propria musica inedita e basta cioè mi bastano pochi follower l'importante che vende ma che vendi oh ma basta cavolo vendi le tue canzoni ma non le vuole nessuno le tue canzoni cioè non facciamo l'errore perché adesso ovviamente la mania del business online è esplosa allora uno pensa allora questo succedeva anche quando ho iniziato nella fine del 2016 l'idea di ho visto tanta gente nascere e morire sui social guru che con la passione della musica o che avevano l'idea magica no ma io prendo il marketing lo applico alla musica quindi ho questa nicchia scoperta che perché i musicisti non sanno niente di marketing e posso applicare gli stessi concetti alla musica sono falliti tutti ok non ci sono più queste persone che fanno queste robe devi essere un musicista devi avere gli occhi io sono un cantautore un produttore faccio stampa mi so promuovere allora posso filtrare quei concetti e renderli e prendere solo ciò che è utile per i musicisti ed è quello che faccio nei miei corsi ma là fuori non ragazzi cioè non ci sono andate a vedere degli altri formatori non so se guardate i video di qualcun altro ma è tutta gente che non ha mai fatto nulla non è una non ci sono articoli ok non ci sono articoli non esistono musicalmente ok non hanno esperienze io sono stato dieci anni in trincea e poi ho detto vabbè posso mettere c'è un sottostante ma qua si sveglia uno alla mattina e dice che è un musicista che è un esperto di marketing e ti tira fuori il corso il percorso state attenti